E volevo avvisarvi che sul canale YouTube, ragazzi, 905 iscritti! Siamo quasi ai 1000! Siamo quasi ai 1000, cazzo! Quasi 1000 iscritti, questa tanta roba. Mancano meno di 95. Ed era ieri che mi sembrava che questo canale ne avesse soltanto di 300 di iscritti. Invece, siamo cresciuti. Quindi, ragazzi, meno 95 e otteniamo la partner pure su YouTube. Magari non mi daranno il verificato, però intanto otteniamo qualcosa, ok? Quindi, nice. Sono contento di queste piccole soddisfazioni. Oggi sono usciti video del primo game di partner Twitch, col finale assurdo. Non vi spoilerò niente, andatevelo a vedere. E è uscito anche, vabbè, la chat vota Swain, dove ho giocato il laser corvo. Ieri vi è piaciuto quello di 1000 euro donati, mi tocca giocare Zoe. 400 visual, finalmente Raph che gioca Zoe. Uno dei miei preferiti è questo, il pesce gatta. Rocky il grande, ragazzi, Rocky non scrive più. Cazzo, vero? Voi non lo sapete. Rocky ha smesso di iscrivere, ragazzi. Rocky ha smesso di iscrivere. Rocky se n'è andato dal mio canale. Vi racconto questa cosa. Vi faccio vedere. Vedrete il mio YouTube studio. Oh mio Dio, no, non guardate questi dati sensibili. Ma Rocky dove sei? Guardate, lo cercano. Simotaku. Simotaku sta cercando Rocky. Rimuovi. Ragazzi. Rocky se n'è andato. Racconta come ho decifrato il codice. Rocky ha scritto. Non è tutto Rocky quel che è bello. Rispondi a Rocky se sei un suo fan. Io gli ho detto siamo tutti fan di Rocky. Rocky sta per dire addio. Gli ultimi commenti di Rocky. Rocky sta per spegnere il suo account. Qualcuno si ricorderà di Rocky? Rocky se n'è andato dal tuo canale. Tre giorni fa. Sono passati tre giorni, ragazzi. Ma noi vogliamo che ritorni Rocky. Era un'icona. Era l'icona del canale Uncut. Scriverà sotto tutti i video. Infatti gli ultimi non ci sono. Ma ancora la gente lo ricorda perché dopo questo suo ultimo messaggio. Vero fan di Rocky. Rocky è grandioso. Rocky ama questa bot lane. Tutti che ancora lo scrivono. Rocky si fida sempre. La X è il mio simbolo. Non c'entra niente. Mangia, mangia. Ciao cugino. Manca un like a 33. Ai miei tempi i Rocky passavano in orario. Infatti non c'è più. Rocky è morto. Se ne stanno accorgendo tutti. Rocky non scrive più. Ragazzi vogliamo Rocky. Andate a scrivere sotto al suo commento. Qualcuno si ricorderà di Rocky oppure rispondi a Rocky se sei un suo fan. Ditegli che siete suoi fan. Dov'è? Vi passo i link. Questo è uno e vi passo anche l'altro. Non mi ragazzi. Questi i link. Ve li lascio qua. Uno. Non è morto in online a vedere la chat aggiornata 20 secondi fa? Quindi stai in live. Rocky se ci senti. Dicci perché sei sparito. Rocky se sei in live. C'hai tra gli utenti in chat? Rocky ci sei? Quindi mi senti? Forse stai lurcando? Non lo so. Rocky se ci sei scrivici qualcosa. Facci sapere perché te ne sei andato. Forse perché è venuto in live. E non guarda più gli uncut. Rocky cos'è successo? Tutti ti vogliono bene. Abbiamo decifrato pure il tuo messaggio. Praticamente ragazzi. Lui aveva scritto un messaggio sotto a un video. Tutto sbagliato. E noi pensavamo. Ma che cazzo? Ho tirato un pugno sulla tastiera. Invece no. Era un messaggio che dovevamo decifrare. Ah praticamente ragazzi. Vi spiego una cosa. Rocky non so chi sia. Ma è un cazzo di genio. Ok? Adesso vi faccio vedere una roba. Praticamente abbiamo scoperto che Rocky scrive i messaggi sotto ai video tipo con un certo criterio. Tipo qua ha scritto Rocky lascia sempre la luce accesa e l'uncat era i cugini della luce. È proprio la luce no? Rocky è un minion grosso sotto a costretto a usare Udir che io lo dico sempre Udir è un minion grosso. Ok? Oppure tipo cosa ha scritto qua? Qua scrive Rocky è stato consegnato direttamente alla tua abitazione e due video prima c'era Rocky con sé Rengar consegna one shot con io con Amazon. Ok? Quindi c'era qualcosa. Guarda qua. Rocky è XX Sniper XX Sto diventando un cecchino. Cecchino Sniper. Capite? C'era qualcosa. C'era qualcosa. C'era quindi delle robe. E abbiamo scoperto per esempio qua e ha fatto dei trick assurdi. Qua ha scritto Rocky si vendica ma il vero qua c'è scritto cioè era questo l'uncut. Lucian si vendica. Poi qua e sotto Lucian si vendica ha scritto Rocky TRS ma era quello prima Diana Salamandra Build è sempre TRS. Rocky combatte un altro gatto ed era questo perché c'erano le Yumi del cugino e si sfidano uno contro uno gatto contro gatto. Capito? Cioè Rocky viene dedicato Garen dedicato al Top Donator cioè tutta una roba super trick. Ok? E qua Rocky aveva scritto Rocky è e codice a barre l'ha riuscito a decifrare e in realtà questa scritta voleva dire Rocky è incredibile. C'erano tutte le lettere della tastiera spostate di uno C'è la O in realtà era la I infatti se voi andate a vedere sulla tastiera O quella sinistra è la I la M quella sinistra è la N incredibile e infatti nel titolo c'è la parola incredibile cioè io non so se è pazzo questa persona o se è un cazzo di genio io non lo so verso un urf vabbè quindi ragazzi boh queste sono le cose che sono successe sul mio canale Uncut e andate a scrivergli che vi manca e di tornare